Preparati a diventare il più grande brand delle corse. Vai 95! Cinema, pubblicità, sponsorizzazioni. Pensavi di essere famoso? Diventeremo ricchi sfondati. Signor Sterling, di che sta parlando? Della tua eredità. Ogni volta che perdi, danneggi te stesso. Mi dispiace. I tuoi giorni da pilota sono giunti al termine. Speriamo solo che la tua corsa di oggi non sia l'ultima. Io decido quando ritirarmi. Come ti senti? Non posso entrare in pista e fare sempre le stesse cose. Non serve a niente. Non opporti al cambiamento, amico. E sai cosa farei? Cosa? Non lo so. Idea è zero. Sono così emozionata di allenarti. Amo le sfide. Ti ho definito il mio progetto terza età. Ai vostri posti! Pronti! È via! Wow, 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 wow! La spiaggia mi ha inghiottito. Jackson Storm oggi ha infranto un altro record, stabilendo il giro più veloce di sempre. Come si sente? Ha saputo dell'ultimo record di Storm! Ha mai pensato al ritiro? Da qui, da questa parte! È la mia ultima occasione, Cruz. L'ultima! E se perdo, potrò scordarmi tutto questo. Non devi temere la sconfitta, ma di non avere altre occasioni. E ora ne hai una. Ti ammiravo in televisione mentre volavi nell'aria. Sembravi così impavido. Avrei voluto sapere che si prova. Zaeta! Non sarai mai veloce quanto Storm, ma puoi essere più furbo di lui. Il vero premio è correre, il resto non conta. Le probabilità che Storm e Linka sono del 95.2%. Poi, McQueen! Due, il riso che sta a delciare della доп. Po, il riso che rupe è un uomo, non sa l'è. Una volta è se le poteva.